La maternità fa sentire completa Janet Jackson, la cantante, a gennaio, ha avuto alle di 50 anni il suo primogenito e issa dal marito Wisa Malmana, da cui si separata poco dopo la nascita del piccolo. A raccontare i primi mesi della nuova avventura di Janet il fratello Tito, che sulle pagine di Pipo l'ha dichiarato. Una bravissima mamma, il bambino la fa sentire completa. Recentemente le ho chiesto come stesse andando e lei mi ha risposto. Tito, sono felicissima, vuole un bene dell'anima al suo bambino. Parla col bambino con il linguaggio proprio dei bambini e gioca con lui costantemente sorride. Tito, cambia tutti i pannolini, fa tutto da esse, una vera mamma e adora esserlo. Janet sta rifinendo gli ultimi dettagli in vista dell'inizio del suo State of the World Tour. Che cominciere il 7 settembre. Secondo alcune indiscrezioni, la cantante 51enne ha perso circa 29 chili dopo la gravidanza. Grazie a una dieta ferrea e a dei costanti allenamenti. Turner sul palco con la passione e il fuoco che la contraddistinguono e che i fan si aspettano da. Lei quando il tour AVR inizio. Ha recentemente rivelato una fonte a Etonline.com. Janet aveva messo in stand by il tour che all'epoca aveva il nome di Unbreakable. Nell'aprile del 2016, dopo essere rimasta incinta, a maggio, in un video diretto ai fan, la Jackson ha dichiarato Ragazzi non sto nella pelle. Ho deciso di cambiare nome al tour. Sa restate off world tour. Non riguarda la politica. Riguarda le persone, il mondo, le relazioni e l'amore. Non vedo l'ora di vedervi. Il 7 settembre.